C'era anche un terzo uomo all'interno della villetta di Cesa dove lo scorso marzo fu ritrovata senza vita Sara Smai, la 19enne miturgenza di origini marocchine stroncata da un'overdose. Dopo un mese di indagini, questa potrebbe dunque essere la svolta nel caso della giovane ragazza. Subito dopo la sua morte scattarono le ricerche di due uomini, entrambi marocchini, che si trovavano con Sara la notte in cui perse la vita a causa di un fatale mix di sostanze stupefacenti. Ma adesso si aggiunge un'altra persona, anche egli magrebino, la cui figura emergerebbe dalle indagini coordinate dal PM Angela Masiello. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, basata anche sulle analisi dei tabulati telefonici, risulterebbe che i due pusher barocchini si allontanarono dalla villetta prima della morte di Sara. Quest'ultima sarebbe dunque rimasta da sola con il terzo uomo e proprio con lui avrebbe assunto la dose letale. La conferma della sua presenza nella villetta potrebbe arrivare dal test del DNA sui mozziconi di sigarette trovate nella camera. Scatta dunque adesso la caccia al terzo uomo che potrebbe raccontare molto sulla morte della 19enne. Intanto proseguono parallelamente anche gli accertamenti sul possibile collegamento della morte di Sara con quella del 29enne ritrovato senza vita, anche in questo caso a causa di un'overdosa, i primi giorni di marzo all'interno del parco del Colle del Pionta.